Ok, direi che possiamo iniziare. Prima di addentrarci nei numeri che ci interessano, quindi il numero 47 e 48, che sono i primi due numeri che riguardano la vocazione matrimoniale all'interno della Costituzione Gaudium et Spes, dobbiamo un po' richiamarci il Proemio, che in verità è la parte più famosa anche per quella che dà il titolo alla Costituzione. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità infatti è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il Regno del Padre e hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò essa si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. Così inizia Gaudium et Spes, che immediatamente utilizza un linguaggio sicuramente fortemente nuziale. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce sono luoghi di unione. Io accolgo te con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Lecco esattamente quello delle promesse nuziali. Gaudium et Spes, questo documento, insomma, l'ultimo e quello più aperto all'interno del Concilio, che guarda verso tutto il mondo dal punto di vista della Chiesa, rappresenta una Chiesa sposa di Cristo, indubbiamente, e per questo alleata di tutta l'umanità. Quindi il linguaggio matrimoniale c'è fin dall'inizio. Poi però alcuni numeri, grazie a Dio, sono dedicati esattamente al matrimonio. Io provo un attimino a ripercorrere alcune cose che ci sono scritte in questi numeri, non li leggiamo integralmente insieme, se non sarebbe una noia infinita. Matrimonio e famiglia nel mondo d'oggi, numero 47. Il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare. Persona, società e famiglia. Questi tre elementi sono sempre uniti insieme. Abbiamo parlato tante volte della necessità di un equilibrio per il matrimonio. Noi di solito tendiamo a pensare che il matrimonio si costruisca e costituisca sulla terza posizione. Persona, società, famiglia. Un matrimonio che funziona è una famiglia che funziona, ma non è vero. Perché una famiglia non può funzionare se ciascuna delle persone non è una persona rettamente funzionante. Il matrimonio peggiore è quello tra due persone in cui lo scopo è appoggiarsi l'uno sull'altro perché non si riesce a stare in piedi. L'altro non è la mia stampella, è un po' poco come vocazione matrimoniale. Servono delle persone per poter avere una famiglia, servono persone che sanno stare all'interno di una società. Anche qua abbiamo parlato tante volte dell'equilibrio della posizione in una società. Equilibrio che va guadagnato anzitutto sulle posizioni vicine, che sono quelle delle famiglie di provenienza. Ci va equilibrio che non vuol dire annullarle, non vuol dire far finta che non ci sia stato un distacco, ma c'è anche un equilibrio con le amicizie, un equilibrio rispetto a quella porzione di società che è il mio lavoro o la parte dei miei hobby. Ecco, una famiglia funziona bene quando è integrata. Persona, società e famiglia devono stare sempre insieme. Il documento va poi a fare, insomma, diciamo che Gaudium et Spes è anche molto poetico come documento. E figuratevi che qua il problema era l'aumento della natalità, dice. Sono passati un po' di anni e il suo problema non è la crescita demografica, ma la depressione demografica. In generale è un documento ottimista. Però qua e là ci sono dei punti di forte realismo, anche un po' impietoso. Per di più l'amore coniugale è molto spesso profanato dall'egoismo, dall'edonismo e da pratiche illecite contro la fecondità. Tre elementi vengono nominati. Egoismo, edonismo, pratiche illecite contro la fecondità. A me pare che ci sia da parte della Chiesa un consiglio su come vincere queste tre piaghe dell'amore. E il consiglio si traduce, o potremmo tradurlo, poi insomma diciamo che è una teoria, nel consiglio delle tre virtù evangeliche. Come si può guarire dall'egoismo? Con l'obbedienza. Sapete, povertà, castità, obbedienza. Sono tre consigli evangelici. L'egoismo come risposta cristiana è l'obbedienza. Obedienza vuol dire mettere da parte il proprio io e decidere che la parola dell'altro sarà la grammatica di tutta la mia vita. Io non voglio più dire una parola su di me, perché la parola più giusta su di me la dici tu. È quello che ci libra un po' da quell'ansia della realizzazione di sé, che sempre ci colpisce un po' e ci fa perdere l'equilibrio anche rispetto al lavoro o al resto della nostra vita. Non dobbiamo dimenticarci che all'interno dell'unione coniugale di fatto ci si promette obbedienza e una mutua consacrazione. E quindi i consigli evangelici sono tutte e tre. Tra due sposi ci deve essere povertà, castità e obbedienza. Io quando sposo te decido che la tua parola è la migliore parola che definisca la mia vita. E quindi ob a udire. Io starò sempre ad ascoltare che cosa hai da dire tu di me. Perché io posso averci pensato, posso aver costruito, progettato, ma quello che mi dirai tu è sicuramente migliore. Tu sei il mio bene perché tu sai il mio bene. Io mi fido di te al punto da ascoltare la tua parola sopra ogni parola. Questo rispetto agli altri più o meno lo facciamo. Perché bisogna farlo anche rispetto a se stessi. La tua parola su di me vale più della mia. Difficilissimo. Dall'edonismo, cioè dal piacere soprattutto. Credo che qui il consiglio, qua verrebbe da dire il consiglio sarà la castità, perché piacere, adonismo, no? Credo che il consiglio evangelico sia la povertà. Perché povertà è la capacità di non avere profitto, di non avere guadagno, e quindi di non fare soltanto le cose perché mi provocano piacere, mi piacciono, sono secondo i miei desideri. La povertà è la capacità di fare ciò che è giusto senza volere niente in cambio. E la capacità di dono totale senza chiedere il contraccambio, senza avere guadagno. Per questo l'edonismo, che è la ricerca del piacere, ora togliamolo dalla sola sfera sessuale, la ricerca del piacere in generale può essere vinto solo con la povertà. Io non sto con te soltanto perché stiamo bene insieme, oddio, si spera che stiamo bene insieme, ma non è quello il motivo della scelta. Io sto con te un po' oltre, perché se io avessi reputato che tu sei la persona giusta per la mia vita perché tu doni piacere alla mia esistenza, allora sarebbe donismo. Senza niente di particolarmente scabroso dietro, ma tu sei l'oggetto del mio piacere, tu rendi piacevole le mie giornate, la mia esistenza. E nel momento in cui non fosse più piacevole stare con te, se qualcosa non andasse bene, sarebbe povertà. Io sto con te senza volerci guadagnare niente. Ti ho scelto, al di là di ogni guadagno, ti ho scelto per essere dono, non per avere profitto. Pratiche illecite contro la fecondità, qui serve la castità. Ma non per una ragione di calcoli, di mesi, giorni, anni, o tutto quello che ci sta dietro. Quella è una conseguenza. La castità è la capacità di maturare una giusta distanza dalle persone che amiamo. Pratiche illecite contro la fecondità. E perché di fatto c'è troppo attaccamento tra i due, troppo distacco dal dono che è la vita, in ogni caso manca una distanza giusta, quando la coppia non è feconda. E vorrei però che leggessimo questo Pratiche illecite contro la fecondità in una dimensione un po' più ampia da quella che è l'essenziale fecondità biologica. Una coppia deve essere feconda al di là della fecondità biologica. Non vuol dire che deve far figli con altri che non siano il marito e la moglie. Vuol dire che deve trovare altri modi di portare frutto, di portare vita, di crescere l'esistenza di qualcuno. Se no, le coppie che non possono avere figli sono meno coppie delle altre. E quando finisce la stagione in cui la coppia è feconda in senso biologico, che cosa succede? C'è una fecondità ulteriore da cercare, sempre con castità, la giusta distanza. A volte il luogo in cui manca di più la castità sono le opere di carità. Perché poi diventiamo in qualche modo padroni o ci sentiamo appagati dalla carità che facciamo. No, c'è una fecondità da ricercare anche in quello con castità. Le profonde mutazioni dell'odire una società nonostante le difficoltà che ne scaturiscono molto spesso rendono manifesta in maniere diverse e questa è la vera natura di questa istituzione, il matrimonio. Questa è una parola anche di consolazione, ma anche di realismo. Era un po' il discorso della prima lettura dell'Omelia della Messa di sopra. L'essere messi alla prova non è un errore, non è una cattiveria, è una necessità. Ciò che è importante va provato. La Bibbia dice che bisogna essere saggiati come l'oro nel crogiuolo. L'oro viene bruciato perché si stacchi la parte impura. Se tu sai che una cosa è preziosa non hai paura di metterla alla prova. Perché dovresti averlo? Se sei, come dire, sicuro del prodotto, anzi, una prova è una certificazione. Allora, forse anche leggere questo tempo in cui sicuramente lì si parla di sussidi alla famiglia per aiutare la crescita della famiglia, non è che proprio ci siano tanto. Però in questo momento un po' difficile, sotto tanti profili, questa prova, che cosa ha fatto venire fuori della famiglia che siamo, della coppia che siamo? Qual è la parte, dire oro per me è una parola più odiosa insieme ad alcuni nomi, tipo Aurora, perché c'è un troppo R e poche O i vocali. Comunque, qual è l'oro che è uscito fuori dalla prova che abbiamo attraversato? Anzi, sarebbe interessante fare l'elenco delle prove che insieme abbiamo superato e che cosa, quale brillantezza e preziosità abbiamo scoperto una volta superata la prova. Questo ci dà poi anche il coraggio di affrontare le prove che verranno. Santità del matrimonio e della famiglia, numero 48. La prima parte ci riporta un po' al fondamento, quella che si direbbe visione soprannaturale delle cose, che non vuol dire vedere chissà che, non è vederele in profondità. Chi c'è a fondamento di tutto ciò di cui stiamo parlando? Il creatore. A volte ce lo dimentichiamo. Io in mente quando confessi gli adolescenti in particolare un po' sensibilizzati per capire cosa devono dire che non sia soltanto rispondo male a mia madre, quando mi chiedi di superare la tavola non lo faccio, quando riesci a portarli su una dimensione un po' ulteriore, ti dicono che devono chiedere perdono perché tante volte si scoraggiano, perché tante volte finiscono un po' nel grece perché per sentirsi migliori provano a essere come gli altri. E poi tu gli dici ma scusa ma a te chi t'ha fatto? Chi è che t'ha creato? Dio. Ma puòverti creato male Dio? E allora smetti di farti ste pippe mentali, no? Pensaci, se t'ha creato Dio, sarai diverso dagli altri, intanto sono tutti diversi, poveri loro che non sono uno diverso dall'altro. Però, al di là di questo, se t'ha creato Dio, ma ti rendi conto che come direbbe il profeta sei una meraviglia stupenda? Cioè intanto dovremmo metterci davanti allo specchio e guardarci con gli occhi di Dio. La famiglia che siamo, la famiglia che siete è allo stesso modo un'opera del Creatore. E al di là delle povertà umane che poi vediamo subito, dovremmo avere il coraggio di ripartire da Dio. L'intima comunità di vita ed amore coniugale fondata dal Creatore. Questo è il primo punto, fondata dal Creatore. E stabilita, quindi il fondamento del Creatore, la stabilità è data dall'alleanza dei coniugi che si pronuncia attraverso un irrevocabile consenso personale. C'è un'espressione nelle promesse che vi siete scambiati. e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Ora, non è una finezza grammaticale che non ci sia scritto di amarti e onorarti per tutti i giorni della mia vita. Perché in latino si dice semel pro semper, no? Non è che queste cose ce le si hanno dette quel giorno e valgono di lì in avanti. Noi, quel giorno le abbiamo dette la prima volta pronti a ripeterle tutti i giorni della mia vita. Io questa promessa te la rifaccio ogni volta che ti guardo. Anche tu l'ha fatto una volta e poi spero che luri, eh? Funziona così. L'irrevocabile consenso personale. In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro, perché è fondato dal creatore, non dipende dall'arbitro dell'uomo. Io penso che, non so, tra le frasi belle che dovrebbero esserci scritte in una camera degli sposi, dovrebbe esserci questo, questo legame sacro non dipende dall'arbitro dell'uomo. Anche questo l'avete sentito il giorno del matrimonio, non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce, non dipende dall'arbitro dell'uomo. Questa intima unione in quanto mutua donazione di due persone come pure il bene dei figli esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità. Fedeltà, indissolubilità come si fanno a realizzare attraverso un'altra qualità che la totalità. Se io ti do tutto non ho più niente da chiedere indietro, non potrò mai chiedere niente indietro, non è che non una parte come dire mi riprendo un pezzo io non ho più niente, non è più mio. Non so, quando sei piccoli ti insegnano che quando fai un regalo non puoi chiederlo indietro, non so, una volta si spiegavano questa cosa ai bambini, per poi diventavi nemico a un certo punto mi riprendi un regalo che ti ho fatto il compleanno e la mamma ti diceva no, anche se sono sti più amici non puoi prendere il regalo che gli hai fatto e se hai fatto un regalo non puoi averlo indietro. Ecco, tu hai fatto della tua vita il regalo per l'altro. Questa totalità, tutta la tua vita è diventato un regalo per l'altro, fonda la fedeltà e l'indissolubilità. Ora, il salvatore degli uomini e sposo della chiesa viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio. Inoltre, rimane con loro perché come egli stesso ha amato la chiesa e si è dato per essa così anche i coniugi possano amarsi l'un l'altro fedelmente per sempre con mutua dedizione. C'è un inseguimento spasmodico come dire del volto di Cristo, no? Da sempre. Ma non solo nella storia dell'arte ma anche nella storia della devozione. Tante persone vanno a vedere il Cristo velato perché al di là della straordinarietà dell'opera, no? Ma perché in qualche modo ti sembra di essere lì in quel momento. Pensate fiumane di gente a vedere la sindone che poi tolto che se sei un po' borno non vedi perché piazzano le luci giuste ma fai fatica a vedere il volto ti conviene vederlo in foto perché lo vedi un po' meglio. C'è questa ricerca spasmodica del cercare del cercare il volto di Cristo chissà dove chissà come con chissà quali miracoli chissà quali apparizioni ma ci sono gli sposi. Perché ci manca così tanto la fede da non vedere negli sposi ciò che vede Dio? San Paolo la vedeva giusta questo lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. parla del matrimonio sta parlando degli sposi e lui che ha una visione soprannaturale delle cose quindi le vede come sono in profondità dice io tutto questo lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa io guardando gli sposi vedo esattamente quello che Cristo prova per la sua Chiesa la contemplazione del miracolo che siete in quanto sposi l'anello che portate è l'anello che in qualche modo è la garanzia di un amore che non passa e se è vero che i nostri anelli si riempiono di righe e righette e un po' si rovinano è anche vero che rimangono lì esattamente come l'amore di Cristo per la sua Chiesa l'autentico amore coniugale è assunto nell'amore divino ed è sostenuto e arricchito dalla forza redentriva del Cristo e dall'azione salvifica della Chiesa in Cristo e con la Chiesa questi sono i due termini che dovremmo sempre tenere in mano non basta il dire ma noi come coppia viviamo la nostra fede in Cristo e la Chiesa perché Gesù ha vincolato l'efficacia della sua salvezza all'appartenenza a una una volta c'è la società perfetta di uomini e donne che seppur con i loro peccati ma ricchi della misericordia e forti della misericordia di Dio camminano insieme non puoi essere certo di essere con Cristo se non stai con la Chiesa e vuol dire starci dentro vuol dire avere una presenza nei limiti e secondo le possibilità delle stagioni della vita che viviamo e che si assecondano ci saranno tempi di grande impegno e di grande testimonianza a favore di altri nella Chiesa ci saranno tempi in cui devo farmi un po' da parte perché la mia famiglia ha bisogno di me quella è la mia prima Chiesa la mia famiglia però sarò presente all'interno della comunità nella Messa Domenicale tutta la loro vita è pervasa di fede speranza e carità penso sia un augurio questo da parte di Garni non so se avesse la fotografia delle coppie tutta la loro vita è pervasa di fede speranza e carità so che siete così però mi sembra anche un po' in ottimistica un buon proposito ecco c'è poi questo questo inciso che a me ha impressionato non so è un testo che ho letto e riletto tante volte le altre cose che ho detto finora sapevo che erano scritte non ho mai notato questa espressione prevenuti dall'esempio e dalla preghiera comune dei genitori i figli anzi tutti quelli che vivono nell'ambito familiare troveranno più facilmente prevenuti dall'esempio e dalla preghiera comune dei genitori non vorrei neanche commentarlo perché mi sembra evidente che cosa stia dicendo il servizio e questa è la come dire è l'idea di santità cristiana il miglior servizio che posso fare a te è essere santo io e dal momento che gli sposi non sono più due ma una carne sola questo vuol dire che la nostra santità è legata l'esempio è la preghiera comune dei genitori la famiglia metterà con generosità in comune con le altre famiglie le proprie ricchezze spirituali il senso di un gruppo famiglie la famiglia metterà con generosità in comune con le altre famiglie la propria e le proprie ricchezze spirituali e qua andiamo sul lancio del tema dell'anno allora la famiglia cristiana che nasce dal matrimonio come immagine e partecipazione dell'alleanza d'amore del Cristo e della Chiesa renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore nel mondo e la genuina natura della Chiesa sia con l'amore la fecondità generosa l'unità la fedeltà degli sposi che con l'amorevole che con l'amorevole cooperazione di tutti i suoi membri questi sono gli elementi di testimonianza amore fecondità generosa unità fedeltà amorevole cooperazione cinque punti perché la famiglia sia testimone il tema dell'anno è il Vangelo della famiglia non nel senso di parliamo di grammatica non nel senso di un genitivo oggettivo non quali sono all'interno del Vangelo i Vangeli che riguardano la famiglia ma in senso di genitivo soggettivo quel Vangelo che è la famiglia la famiglia non ha bisogno di leggere chissà quale Vangelo ha bisogno di essere il Vangelo nel mondo quest'anno proveremo attraverso temi e testimonianze a capire attraverso quali strade la famiglia che siamo può essere Vangelo per quelli che ci guardano ci frequentano ci ascoltano a capire a capire